buongiorno a tutti sono massimo scarola sono un tecnico dell'atletica torte e teste oggi vorrei proporvi alcuni esercizi utilizzando la funicella questi esercizi possono essere eseguiti chiaramente in un piccolo spazio visto il periodo così un po problematico che stiamo affrontando potete farlo su un terrazzo come sto facendo io anche all'interno della vostra casa il primo esercizio che vorrei proporvi è lo skip ok cinocchi a belle alte piede a martello iniziamo con il primo esercizio ok benissimo un altro esercizio che potete eseguire sempre con la funicella e la calciata perciò talloni che vanno a cercare il sedere busto bell'eretto e cominciamo ok un altro esercizio che possiamo fare è il doppio impulso non è molto facile ma piano piano potete farlo prima senza l'uso della funicella per poi passare alla funicella ok bene quarto esercizio di oggi è l'esercizio della prima gamba iniziamo facciamo sempre delle piccole pause tra un esercizio e l'altro recuperiamo e vi ricordo che prima di iniziare questi esercizi di eseguire sempre una fase di attivazione generale per procedere voi con la mobilità articolare ok passiamo ora ai basi iniziamo facendoli con tutti e due i piedi contemporaneamente ok dopo averli fatti con tutti e due i piedi possiamo eseguirli con il piede sinistro e poi con il destro potete anche personalizzare l'esercizio farlo una volta con il sinistro una volta con il destro e con i tre i piedi per motivi di spazio volevo farvi vedere anche un'altra andatura con la funicella che è il galoppo laterale purtroppo non avendo la possibilità in questo terrazzo da molto limitato però potete fare piede schiacciapiede e nello stesso tempo fare la funicella oppure completare il tutto facendo una corsa di 20-30 metri sempre con l'utilizzo della funicella io spero che questo video vi possa essere utile e soprattutto perché noi non abbiamo molte possibilità di muoverci in questo momento vi ringrazio e vi ricordo che siamo presenti sul nostro canale youtube e vi invito ad iscrivervi e niente vi aspetto il più presto possibile nel nostro impianto di torte e testa approfitto per ringraziare tutta la mia squadra tutti i ragazzi e tutto il team un bacio a presto